Sì, la fa baffa! Sì, la fa baffa! Dobre! Eccera! Sì! Dale, dale, dale! Eccera! Daj, dai, dai... Daj, dai! Daj! Da, 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 da Daj, da, da Daj, da Daj saluto saluto si non si Sì, come si è divertito! Se si è divertito! Voi! Voi una mano in fronte! Voi un'espovovovo! Voi faccio il dottor! Voi faccio il dottor! Voi una mano in fronte! Voi provo! 1, 2, 3, 4, 4, 5 dove hanno a rispondere l'aglietto. Questa sono la vicenda a casa. È dopo, è dopo beh, beh, beh Control, contro, contro Continuate Se volto vi per il mercato Go in, adesso è volto l'amore Chiude loro, aiuto L'energia Di uno Wunderhocca Wunderhocca Doucha Come on Juan, get out of there Da bingo DAVA DAVAI C'è un po' di mesele 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 C'è un po' di scopo Poi Scopo Panser In Pana Mesele Pana 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 Buongiorno Braz, no Ręka na szyję Szymiastnymi Ręka na szyję Szymiastnymi Trzymiast i zbyt Ręka na szyję Róla Ręka na szyję Si prende la gió, sui! Si prende la gió che ci disse Si, si fermeci e spettare la mano, ok? Le 보�혼 con la mano! Si prende la mano a mu ради di loro! Si prende la mano a mu وت... Si prende la mano, si prende la mano a non su per la mano! Ilà sono 4 minuti 17 sec! Rai continuo per la mano! Si prende la mano a 10 sec... Si prende la mano a 10 sec! Ci prende la mano, ok? è il 30 sec! Riena di scegliere, non sai. Non lo so, non si può fare. Vai, 30 secondi, ha fatto che ci sono più! C'è più! Non lo so, non è più! No! C'è chi? Non ho fatto questo, non ho fatto la mia! Grazie a tutti.